528 milioni. A tanto ammonta il pacchetto di aiuti anticrisi inserito nella manovra straordinaria di bilancio approvata dal Consiglio provinciale nella sessione di marzo. I fondi, ha spiegato il presidente della provincia Compatcher, vengono dai importi che lo Stato deve alla provincia come accise sul combustibile e contributi sul gioco d'azzardo. Essi andranno, ha illustrato insieme agli assessori Deig, Acham e Reschuler, a favore di imprese danneggiate e delle famiglie. Particolare attenzione sarà data al turismo. In quanto la situazione Covid, l'assessore alla sanità Widman ha riferito che le misure di contenimento saranno portate avanti per sollevare le terapie intensive dall'aggressività delle nuove varianti. L'opposizione ha messo in dubbio l'effettiva disponibilità dei fondi e criticato che la manovra arrivasse in aula all'ultimo momento impedendo di esercitare la funzione di controllo. Alto Adige nel cuore, Fratelli d'Italia, ha parlato di operazioni di facciata. Il gruppo verde ha segnalato il disequilibrio tra i fondi per l'economia e quello per le famiglie, ma ha apprezzato la trasformazione in società in-house della Sasa, così come il Partito Democratico Liste Civiche, che però ha chiesto alla Giunta se sui fondi esistesse un piano B. Movimento 5 Stelle e Tim K hanno sollecitato azioni rapide e snellimento della burocrazia. Su Tirole, Freiheit ha segnalato sostegni maggiori al di là del Brennero. I Freiheitlich hanno rilevato che bisogna trovare il modo di riattivare economia e istruzione convivendo con il virus. Enzian ha aggiunto che l'aiuto migliore sarebbe permettere di lavorare. Alto Adige Autonomia ha invece difeso la variazione di bilancio straordinaria e i consiglieri SVP hanno evidenziato che si mirava a garantire la sopravvivenza e conservare i posti di lavoro. Alla fine tutta l'opposizione si è astenuta e la manovra è stata approvata con i 19 voti di SVP, Lega Salvini-Alto Adige-Suttirol e Alto Adige Autonomia. Via Libra anche a mozioni di Freiheitlichen ed SVP a promozione del Minority Safe Pack, il pacchetto a favore delle minoranze in Europa, alla proposta del Gruppo Verde di sensibilizzazione contro l'odio in rete, ad una mozione sovra-partitica a sostegno delle organizzazioni di soccorso anche tramite contributi volontari, a quattro mozioni dall'SVP per escludere i libretti di risparmio dei bambini dalla base di calcolo per accedere alle prestazioni sociali, per un fondo provinciale per la formazione continua, per una dilazione dei mutui delle imprese e per l'esenzione dall'IMI delle imprese con perdite economiche. Infine a una di SVP e Lega Salvini-Alto Adige-Suttirol per sosteni mirati all'economia locale. In coda alla sessione, nonostante la richiesta dei promotori di rinviarla a vista l'ora tarda, si è tenuta in notturna la seduta straordinaria voluta da tutte le opposizioni per confrontarsi sulla destinazione dei fondi provenienti dal recovery fund. Oltre al mancato coinvolgimento, è stato contestato il previsto utilizzo dei mezzi per progetti non lungimiranti, poco ecologici e stranei alle pari opportunità. Il presidente Compaccio era spiegato che il tempo a disposizione per vincolare i fondi era troppo poco per elaborare nuove proposte e che mancavano indicazioni chiare da Roma. Di 2,4 miliardi in discussione probabilmente arriveranno solo 400 milioni e in gran parte da utilizzare per l'ultimo miglio della banda larga. La proposta di maggiore coinvolgimento è stata respinta con 14 sì, 17 no e una stensione.